ciao amici eccoci tornati con un nuovo video su youtube allora quanto costa la mia roba da vestire estiva allora abbiamo qua la prima maglietta box or blu fatta così e dietro così 15 euro veramente 12 dalla prima poi abbiamo la seconda maglietta box or questo l'ho comprata l'anno scorso nera si dietro non ha niente questa qua 25 se non sbaglio la seconda maglietta poi abbiamo la terza maglietta sempre nera di box or fatta così box or the loser way behind the fighter brand dietro così carina mi piace anche questa 12 se non sbaglio in offerta era sia questa che l'altro e l'ho comprata poi ho comprato questa qua della champion mi sembra l'anno scorso si champion e salvate il pianeta questo pianeta è da salvare dietro così è davanti il green messaggio di questo colorino qua che mi piaceva non ce l'avevo questa l'ho pagata 15 se non sbaglio 15 15 euro ok le magliette poi questa qua che ci sono affezionato me l'ha regalata della sardegna che mi piace un botto dietro non ha niente vuota però bella con i quattro sardi e la bandiera dalla sardegna davanti ok poi abbiamo i pantaloni estivi 30 euro con cintura perché mi sono un po' larghi semplici semplici dietro dietro fatti così e davanti così con le scritte dentro hanno il bottone le tasche laterali tutte e due 20 e 25 se non sbaglio l'ho presi due anni fa 25 euro si anche 30 mi ricordo tra i 25 e 30 euro poi abbiamo questi nuovi l'ho comprato quest'anno 38 euro fatti così con la cintura anche questi perché sono giusti ci vuole la cintura ho comprato anche la cintura dietro fatti così con le due tasche davanti agli strappi qua e qua qua e qua belli mi piacciono c'erano anche quelli con le righe dietro però poi vedrò come comprare comunque questi qua 38 sui 40 euro poi abbiamo questa verde che mi piace un casino box store sempre dietro fatta così ai lati c'ha questo bella mi piace questa qua l'ho pagata 25 mi sembra come quella nera e l'ho presa verde perché mi piaceva il colore piace un botto questo poi abbiamo questa di squared semplice semplice comprata tre anni fa di squared due fatta così azzurra e dietro così niente c'ha liscia liscia ha un tessuto veramente morbido c'è un panno sembra fantabele mollissima però ancora me la metto e l'ho pagata tanto questa sui 30 euro 30 euro nel negozio di squared ok poi abbiamo questa la mia preferita che mi hanno regalato l'anno scorso ma sapevo il prezzo perché l'avevo vista prima io volevo comprarmela e poi me la sono fatta regalare per il mio compleanno leone 1947 targhetta leone e dietro niente semplice semplice 20 euro questa piace un botto è la mia preferita questa è quella di box store allora poi devo decidere devo scegliere poi abbiamo questa che è l'ultimo acquisto l'ho presa a 15 euro mi sembra scontata c'ha davanti il taschino che non ne ho col taschino la stemmino box store e qua ai lati non c'ha niente dietro è così questa qua l'ho pagata 15 euro anche questa scontata bella mi piace un botto ha questo azzurro verde strano che risalta quando si è appronciato va bene poi abbiamo questa che l'ho comprata 4 anni fa della Melloi era un negozio che c'era qua e poi ha chiuso pagata pochissimo tipo sulle 12 euro surf lucky fatta così bella e dietro niente verde che non ne ho e questa qua me la metto spesso ok e poi abbiamo il costume costume della Givova 17 euro Givova ha fatto così ai lati niente e dietro c'ha il targhino qua ok ragazzi il video è finito iscrivetevi condividete attivate la campanellina ciao noi ci vediamo a un prossimo video ciao ciao